Il mio camerino ancora Marina Caligaris Sì, dottor Conti Ciao ragazzi Ciao belli Oggi vacanze in vitea Vacanze romane in vitea Ti portiamo a vedere una cosa Non ne erano abbastanza di stare qua dentro Venite, venite con noi Non c'è più Walter che dice silenzio Da dove cominciamo? Dall'Unici o dalla zona paradiso? Io direi subito dal paradiso Ciao Carlo Lo so che state chiudendo Ciao Davide Ciao E questo è il paradiso ragazzi Sembra quando sono venuto a fare il colloquio da te Questo è il paradiso Che è andato via Ecco qua ragazzi Il paradiso È andato in ferie Ed è proprio su queste poltrone Che fu rinvenuto il cadavere di Umberto Cornieri Dopo anni e anni e anni Robby Robby Niente Farnesi dorme Roberto Che c'è? La bandiera Qua ragazzi ci sentivamo le scene che non sapevamo Questa è tutta Questo è di Luciano Questo è di Luciano Quello è di caro Lucianone Ragioniere già ci manca Già ci manca Fai vedere ai nostri amici la scala a chiocciola Tante volte sei sceso Quante volte l'avrei fatto a sta scala? Non riesco Ho avuto anche dei mancamenti Dei mancamenti Dei mancamenti Che ti scrivono? C'è qualcuno che vuole mettersi in contatto con noi Ma noi non vogliamo metterci in contatto con loro Glielo diciamo? Noi vogliamo soltanto La scala saliamo? Strarvi prego Saliamo? Senti Sono l'operatore ufficiale di Tersigni Ragazzi un'emozione mai vista Guardatelo Ma chi sale così le scale? Parliamone Vedete E questo è il paradiso E questo è il paradiso Dall'alto E questo qua è Non so se hanno mai avuto modo di vederlo da così Ecco Vieni vieni Aspetta Vi faccio vedere una cosa Vi faccio vedere una cosa Guardate Questa è la scala Che saliva su Quella era l'ufficio Di chi quello? L'ufficio E questo era il nostro ufficio E sopra i segreti della scenografia Lo spugliatoio Gli uffici Vittorio Marta Vittorio Luciano E la caffetteria Non si allarga Ah si si allarga E la caffetteria Beh possiamo scendere Manichini Manichini 6.6 Questo tavolo per te qua Era Ufficio Ufficio Marta C'è un'altra cosa Sì Grazie.